Il coordinamento di Fratelli d'Italia del Vallo di Diano sulla scia delle iniziative messe in campo a livello nazionale ha pubblicamente manifestato la sua vicinanza e il suo appoggio alle forze dell'ordine, con una visita nel pomeriggio dello scorso sabato alla stazione dei Carabinieri e alla sottosezione della Polizia Stradale, entrambe a Sala Consilina. Insieme al coordinatore di zona del partito, Franco Bellomo, il componente dell'Assemblea Nazionale, Giovanni Graziano, il commissario cittadino di Sala Consilina Michele Gagliano e al consigliere regionale Nunzio Carpentieri, anche i sindaci dei comuni di Sala Consilina, Auletta, Montesano sulla Marcellana e l'assessore alla viabilità e sicurezza urbana di Polla, Vincenzo Giuliano, hanno partecipato attivamente all'incontro con le forze dell'ordine. A fare gli onori di casa il capitano della compagnia Carabinieri, Roberto Bertini, il maresciallo Giacomo Mezzo e l'ispettore capo Nicola Molinari, comandante della sottosezione di Polizia Stradale. Per i fatti che sono successi a Pisa, molti hanno additato le forze dell'ordine come molto severi oppure hanno voluto utilizzare questi episodi per attaccare le forze dell'ordine o alcune forze di partito. Io ritengo che l'errore di un single, se c'è stato, non possa compromettere quanto di buono hanno fatto finora i nostri esponenti delle forze dell'ordine e quanto di buono hanno fatto in questi anni perché sicuramente quello che fanno quotidianamente è qualcosa di difficile, non è facile eseguire degli ordini, non è facile mantenere la sicurezza in determinate situazioni, non è facile gestire determinate situazioni, quindi bisogna vivere le situazioni prima di valutare. Noi abbiamo voluto organizzare questa manifestazione perché noi siamo con le forze dell'ordine, noi siamo per la giustizia, noi siamo per il rispetto dei diritti dei cittadini e non sono temi che devono essere di destra o di sinistra, questi temi devono essere di tutti. A me dispiace che ci sia stata un'assenza quasi di 6-7 sindaci, 8 sindaci che erano stati invitati perché non voleva essere sicuramente una manifestazione di partito. Ringrazio coloro che sono intervenuti perché, come ripeto, era un motivo di raccordo, è un momento di raccordo tra le istituzioni che devono collaborare. Ringrazio準